Ese è la 4 Ora Il 6 Il 6 Il 6 Il 6 Il 6 Il 6 Tentiamo. Grazie. Grazie. Termino. Ok. La swap. Si io copiare la swap. Sirve di algo o no? Por lo meno me copiaria. La swap. Me copiaria aquel... No, no. No, però io non necessito... No. La swap. Ora, il 8 seria il 7. Il 8. Il SVA8. Pasaria a essere il Svv7. Il SVA8 seria il 7. Perfetto. Enter. Perfetto. 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 Perfetto.